What's up Youtube, io sono Zion e oggi torniamo su Battlefield 4 Parliamo subito del loadout che vedrete utilizzato oggi in questo gameplay con Udox Allora, utilizzo la EC971 con il mirino cobra, il mirino laser, il freno di bocca e l'impunitura angolata Per quanto riguarda invece la pistola, utilizzo una semplice MP443 Con il mirino, vabbè, il ghost ring, la torcia, giusto per, il freno di bocca e niente, questo Vi lascio le immagini che saranno live Se vado adesso muoio, quindi è meglio che aspetto un po' dietro Il tipo davanti non mi può vedere una mazza, ma va bene Ok, questo è morto Oh, ha caricato, alleluia Pressiamolo e scappiamo dietro Oh, hai visto la nuova cosa, che quando devi spawnare, se fai quella rondellina, ti zooma la mazza No, ho visto, comunque nel video vedrai una morte di un tipo No, a parte la mia Oh, questa? A parte la mia, sì, vabbè Infatti, ragazzi, è tipo accartocciato su se stesso dopo che l'ho ucciso Fa morire Comunque, ci sei? Yeah, spavo tu di te, ok? Non farmi morire Andiamo su, andiamo su, andiamo su, andiamo su Eh, allora io non vengo sopra Non vengo sopra perché finisco sempre per, tipo, bloccarmi un piede nella scala e morire Allora, va Sì, giuro Olè, vai Sago su, andiamo Ti puoi dire ciò la kill Sei salito? Sì Oh, che cazzo sta Detto, 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 detto Allora Se ce la fai un resta, ero più? C'è un altro, c'è un altro, c'è un altro Non so perché, no, non lo cisego C'è, stanno subito a tanto Sopra? Eh, sì, sopra Mazzel tipo per terra Un altro, un altro, un altro Pena esce Bella, bravo Mi avvicinano le scale Proprio Ok, poi sei Ah, è nostra No, oh, dietro Ah, l'area è tutta a prestare Tirassi, tirassi, tirassi Eh, posso non mi fare il bug? Ok Ci siamo Eh, stanno passando da sotto, eh Molto probabilmente passano da sta scala Da sinistra comunque Sì, infatti copriamo di là Ah, è ancora nostra, vedi quelli che non passano Però passano qua Uno l'ho ucciso Uno passerà qua Due stanno qui sotto Uno è morto Ho finito i colpi, eh Finito i colpi, aspetta Devo cambiare arma Se vedessi l'arma Di sto tipo Ah, andate Lato mio Non avevo più proiettili Maledetto Arriva, arriva Ludo, le spalle Non so se ce va a far restare il PS Che ne sta arrivando un altro Non ho visto No, non ce la fai Non ce la fai Non ce la fai Io avevo visto passare un altro Vabbè Direi che ci possiamo spostare Ma ci perché non è ancora nostra? Dobbiamo andare sotto a prenderla Perché non ci azzecco? C'era un altro sotto Le hitmark della neve Oh, no Uno, tre Ce ne stanno Stanno a salire Ma se vieni sotto Mi dai Una grandissima mano Ah Abbiamo due ne ho uccisi Un po' la cazzo Ma ne ho uccisi Oh, no E' finita la munizione Ma infatti Mi sa che uno di noi Si deve cambiare Però c'ho anche Sarmet Stanno ancora giù? No C'è la nostra C'hanno un bravo Quindi attento ad affacciarti Vabbè Vieni giù Vieni giù Andiamo su Alpha Andiamo su Alpha Vieni 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 Che attaccano Alpha No Failato di brutto Cazzo Aspetta a restare Non so perché Non ho ultimarcato Vieni dietro al camion Sto dietro al camion No No, no Cambia assolutamente Pistola che Volevi venire Ammazzarmi di nuovo Tutto letto Di merda Vediamo se Sto capito Il tipo No Ok No Non stanno prendendo Alpha Però ci stanno Stanno dall'altra scaletta Vieni vieni Dall'altra scaletta No no Guarda che no Tipo No Andiamo su B Andiamo su B Andiamo su B Ho paura che ci piano Da dietro Da Non vedo nessuno Il posto Salanno Ce l'ha preso Charlie No Charlie Torna qui Capisco Ma che cazzo Non so se avete visto dal video Ovviamente io sparo Oltre la ringhiera Ma pare che questa ringhiera Abbia tipo una vita Proprio Dov'è? Eh sta sotto C'è un altro sotto Ha finito i colpi però Occhio cieco eh Mi lancia i fiori No ve lo vedo Dimmi che non sei morto Ok No no Pro culo Mi serve starla però Occhio cieco Ho visto Ho visto Però ho fatto il tempo a cambiare Che cos'è? Sarà l'Ace 23 Non lo gioco Non lo gioco proprio Da sotto Da sotto C'è un altro Ma che cazzo A me mi si era bugato Il mirino Porca Eva No io non capisco perché A due passi Io ti vedo Che sei lì Eh Non mi freghi Mi vichè Sto salendo su A Ho visto Ho visto Eh Attento da B Anzi no Andiamo a prenderci B Eh che cazzo Questo adesso Va bene Fatto Assassin's Creed Perchè non muore Con 4 No non sale Ah l'ho visto Stavo arrestato Sempre lì Sempre lì Ah mi dispiace Mi ha preso la granata E mi ha smontato la granata Quando sono nato Era troppo un passo di vita Fuck this Oh mo li piamo da dietro Sto a posto Spano da te Si 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 Non farmi morire Eh Eccolo guarda Accoltellata In diretta Ah accoltella Ah Ma è che se l'avrei dovuto fare io Perché con lo stronzo a me Accoltellato Fammi fa quello Fammi fa quello Ah se si sta fermo Questa fa che ci facciano tutta la mappa Questa è cadroia Ok Sono riuscita anche la coltellata Andiamo su C Go 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 Arrivo Odio stare qua per andare Oddio la granata No porchi Restiamo Che c'è da punti Terasso Terasso Attento alla finestra No mi sta bloccando I hate you bitch Sto passando attraverso i muri Porca troia Dove sei sopra? No ora sto salendo No no non salgo Abbiamo preso pure B Campuriamoli al posto Vieni 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 Due sopra sta casetta Occhio eh Oh Christ No Eh da B occhio Da una campera con l'MG No siete visto No sei morto? No Deve muore spando tranquillo Saliamo qua Stavo per fare un unesimo Feb Oh fuck Che palla Ancora non l'ammazzo Non è possibile Ti provo a restare? Ma non è stato Ma non è stato C'è uno che sta per passare là Non so se lo vedrete No Vado Non è deciso Passo da Vabbè B Non ti ho preso però Arriva uno da dietro su C Attanto Ti ho visto Voi trovo Voglio seguire quel tipo raga Me ne pentirò Eh se lo passano tutti da dietro Opera Ti ho visto Merda Ok forse lo prendo da dietro L'ho preso da dietro E ho subito che stanno due o tre a campera Merda Cosa è la mia? No sono coperto da un container Proviamo va C'è uno qua che ci ha visto Mi sa Ho finito di nuovo colpio lui Oh 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 Attento C'è ci sua Dove? Ho visto Mi ha apprenderti Oh Arriva Ho le granate Io ho segno a tre Ahia Il tipo a quello rubato Non le usavo Non morirmi Io ho finito la munizione Cos'è questa fluidità? Non so la parola giusta da usare A un certo punto mi si sono realizzati gli FPS In una maniera assurda Perché è una cosa positiva È ovvio Rambo o muoio O muoio Eccolo E' coltellato Ti ha coltellato? No però d'ammazzato Mi ha visto That's good cazzo sto su a testo saranno che c'è arrivo arrivo coprimi da sopra se ci riesce dovrà aver tirato da sopra pensare aver tirato e ho di nuovo finite col tutto quando quest'anno adesso andai in giro con la pistola tranquillo ma prendi le armi la terra tanto mi sa che hai ripreso la stessa di quello di prima si è l'85 a 2 mi sa sono andando su b vai su b vai su b merda attento c'è uno che fai anche a te provo a venire a restarti l'ha fatto un sori si si quest'anno nooo me l'ho ucciso ho fatto un onnesimo fail e nooo ho fatto un doppio fail ti prego dimmi che non sei morto bella no ma che cazzo c'ho c'è uno qua c'è tutta un meri che se può sto sopra devo ammazzare il tipo ammazzarlo attento ho una granata dietro non sei morto e io mo che cazzo le racconta no da dietro però dobbiamo fare più punti dobbiamo catturare più le basi let's go su c stanno su stanno su sceso sai che ci ha visto arrivato ci ha visto arrivato io prendo c lo sfondo a questo no ti prego non mi hai visto cazzo dove sto ti hai subito c ci saranno vai vai tranqu proprio dietro ah sta sopra come ti giri ce ne sono uno ma il mio corpo è volato dalle scale Quando voli troppo lontano Non ti fa restare Eh no Quando voli troppo lontano Non ti fa restare Ci ho provato io oggi Io copro le scale sotto Due Uno sta salendo Merda Mi ha ucciso Due L'ha restato Arriva 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 Attento No no tranqui tranqui Arriva Ok Ok ci sta Il dato ci sta ancora Guarda se vai a fare il giro È ucciso Mi ha sanato però Vuoi che faccia il giro? Sì sì Lasciami Mi ha sanato 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 Da davanti occhio Mi ha sanato Ma ne arrivano a bizzetto Già E ho visto Sono tutti qua sotto Wow Ha fatto un bordello qua Fa questo No 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 Nade Tirassi 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 No Mi sa che rimuore No Non rimuore Vieni qui Sei morto? Sei morto? Sì No No Di cazzo ne sono? È tipo tutta l'armata qua Che cazzo sta capificando? Fa nel giro è probabile Faccio coprire le alte scale io No Non viene nessuno di qua Però Non è che stiamo difendendo C Stiamo facendo le kill su C Perché C non è il manco nostra Quindi sono sceso a prendere Aiuto Non ho qua un bordello L'ho ucciso Non mi ha ucciso Oddio sta cosa di Battlefield Perché tu muori Cioè ammazzo e muori Ah sono giù Sono sceso E sono morto Adesso la terra Adesso la terra Adesso la terra Non so quando ti conviene Però Sei morto? Sei sopra? No Sono vivo E ora è stato so giù Sopra C Sopra C Non credo l'ho ucciso C'è un altro Oddio che culo Ho ucciso? Sì però Fidiamo insieme Tieni Tieni Attento ci sono sparato a B No Sto arrivi a B Che arma è qua Alù? Ehi Ve lo fa un suicidio? Dai Prima che finisce No va bene Ormai che finisce Che cosa l'ha fatto qua? Sarà una bella partita Non male Io lo so io No ci sto anch'io? Sì eccomi Ok Bon È stata una partita carina Era tutto per illustrarvi Comunque L'arma che sto usando Ultimamente Che è la EK 971 All'inizio del video Avete ovviamente Sentito Come l'ho customizzata Per questo video Quindi Mi raccomando Fatemi sapere cosa ne pensate Se la usate anche voi Se preferite altre armi Eccetera 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 Ringraziamo Ludox Ciao Grazie a te Ci vediamo presto Per altri video Salvate il soldato Zion Alla prossima Sia Ciao ciao Grazie a te